I ragazzi che uscivano dal carcere, grazie all'indulto, veniva dato, almeno a quelli che uscivano dai carceri romani, veniva dato in dotazione un kit comprendente. È vero, eh? Una t-shirt, un panino, mezza minerale, 5 euro e un biglietto dell'autobus. Che state tenuti se sono guardati? La Pantera. Ma ci hanno liberato o dobbiamo andare a fare nascita ai Musei Vaticani?